Io mi permetto di dire che qualche riflessione, chi ha gestito le politiche del lavoro in questi anni probabilmente deve porselo perché tra abuso nell'utilizzo dei voucher, legge Fornero, Job Act, probabilmente noi siamo in un contesto dove c'è una svalutazione della dignità del lavoro, dove sono state tolte tutele, dove sono state tolte garanzie, dove sono stati tolti diritti ai lavoratori. Quindi io credo che, ad esempio, legando il tema del lavoro a quello dell'immigrazione, io credo che in questo momento il nostro paese ha bisogno di nuova immigrazione a basso costo. Io dico assolutamente no perché un'immigrazione non controllata cosa porta? Porta a casi e vicende che stiamo vedendo quotidianamente, ovvero gente che lavora a 3 euro all'ora, abbiamo schiavi che stanno lavorando per disoccupati. Ed è il motivo per cui noi diciamo che l'immigrazione va regolata secondo delle regole, tale per cui se il nostro paese ha bisogno di nuova manodopera, attrava nuova immigrazione. Io credo che un paese con 3 milioni di disoccupati non abbia bisogno di nuova immigrazione, ma abbia il dovere di dare lavoro agli italiani che oggi non ce l'hanno. Dice, scusami, invece in moltissimi casi chi ha lavoro degli italiani non ce va. Vabbè certo, ha ragione. Ma io non lo so se non ce l'ha. Ragazzi, il caso di Napoli è un caso spavoloso. Scusi, la signora che purtroppo è morta era una cittadina italiana. La signora che appena è morta purtroppo era una lavoratrice italiana che faceva esattamente quel lavoro, tale per cui qualcuno pensa che lo possano fare soltanto gli immigrati. Io credo che con 3 milioni di disoccupati italiani, in questa condizione economica di gravissima crisi, io credo che gli italiani siano disponibili anche a fare questo lavoro. Ma non a queste condizioni. Vogliamo dire una cosa chiara. Ma non a queste condizioni. Il lavoro lì, quel modo lì, nessun essere umano dovrebbe farlo. Perché questa è la verità vera dei posti. Non in queste condizioni. Chi se ne frega italiani immigrati. Assolutamente, ma non in queste condizioni qua. Ma non in queste condizioni qua.